In questo piccolo tutorial ti spiego come scaricare e installare così l'applicazione eApp Ovviamente possiamo scaricarla e installarla senza nessun problema E poi crearci così un account Quindi quello che ti consiglio di fare è prima di scaricare l'applicazione eApp Vai su questo qua, sulla personocina qua Crea un account Quindi ti crei un account Inserisci il tuo credenziale, metti il tuo nome, il tuo nome utente e basta Una volta fatto ti salvi così queste credenziali una volta creato l'account E adesso possiamo installarlo Puoi anche crearti l'account tramite Google Eccolo qua Crea un account ea Puoi farlo tramite Google, Steam, Mac, Xbox, Playstation o Facebook Con lo stesso account Ti consiglio di usare quello di Google Una volta fatto, scarichi così l'applicazione eApp Fai Windows, se hai Mac, scarica e installa per Mac Scarichiamo e installiamo l'applicazione Utilizzo di App soggetto Ok, personalizza la configurazione Scegliamo così dove scaricare e installare l'applicazione La installo sull'SSD dove tengo Windows 11 Facciamo andiamo Grazie a tutti 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 No, sei installato Non ci resta che avviarlo Accedi a tu account Ovviamente ora ci dice di accedere con il nostro account Io faccio facilmente con uno di questi sei profili qua Una volta fatto Una volta fatto l'accesso al mio account Ed eccolo qua EaApp Qui ci sono I giochi che puoi comprare E qui c'è la libreria La tua libreria di giochi Se hai problemi con l'applicazione eApp Electronic Arts Quindi grazie a tutti per questa visione Se hai problemi Commenta sotto al video E noi ragazzi Ci vediamo ad un prossimo tutorial Ciao